Il fenomeno del padel ha certamente conquistato anche noi e ci ha scatenato un'idea ambiziosa, straordinaria, quella di provare a costruire intorno a questo sport una serie di servizi in grado di renderlo ancora più interessante per chi frequenta il mondo del padel, servizi per le famiglie, per le persone in grado di dare un impatto alto anche dal punto di vista sociale e questo non solo su Milano ma a livello nazionale. Abbiamo scelto Gaia Olenti per presentare il nostro brand e lanciarlo. Il mondo del padel è sicuramente un movimento che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, in Italia sta spopolando e c'è stata un'enorme richiesta soprattutto tra ex giocatori. Questo perché è un gioco molto dinamico, è un gioco molto socializzante, è un gioco molto diretto quindi riesci dopo poche lezioni a capire come funziona. Per noi può essere sicuramente un diversivo alla classica partita di calcetto.